e che deve evitare scorrettezze fallo qui del Bologna subito Mercier che cerca di andare a disegnare in avanti si combatte ancora Lucchesi a Natriello alla fine la spunta il Bologna con Urbanski che però non riesce a sfondare bravo in questo Fini vince questo rimpallo su Favasuli ancora Fini che cerca la verticale va a sbattere però su Lucchesi che poi esce molto bene in campo aperto e allora due cambi tra pochissimo come segnalato da Giada ancora prova ad andare ancora una volta da Vitolo questa volta Giusai va su di lui sempre molto preciso il centrale nella difesa 3 del Napoli Rossi lascia scorrere questo pallone valuta il rimbalzo molto bravo Lucchesi di rigore del Bologna scambio corto di Stefano Amatucci di Stefano con il cross sul secondo palo torre in mezzo ancora per Cagliode che anticipa Franzini però non è veramente vicino bianco va in profondità cerca una torre che arriva colpo di testa eccolo qui il gioco della Fiorentina Amatucci in mezzo colpo di testa di Tocci secondo palo passa in vantaggio alla Fiorentina Di Stefano punta tutti Di Stefano va al cross sul secondo palo cercato una torre che arriva e il pallone che finisce in fondo al sacco Busato vince il primo duello poi Amatucci poi sbuca Lucchesi riparte la Fiorentina con Lucchesi che si autolancia Senesi fa vedere in profondità dall'altra parte invece c'è Vitolo fa tutto da solo Lucchesi costo costo meraviglioso di Lucchesi fa tutto lui fa tutto benissimo è un gol incredibile